Come hai avuto l'amichevole? Come hai avuto l'amichevole che sono giocatici su un livello altissimo e si vede la differenza tra di noi, però comunque puoi imparare su quello che vedi. L'importante è stato che non avevamo paura, abbiamo fatto il meglio che potevamo fare, anche loro avevano già un mese di preparazione in più, invece noi è stata abbastanza bene. Sì, è molto importante anche le partite internazionali, cioè più facciamo meglio è.